Il nostro approfondimento di oggi ci ha portato nella redazione di Libero con il direttore Vittorio Feltri, grazie direttore per l'ospitalità Grazie a voi Io le devo confessare subito una cosa, io ho deciso di venire da lei perché voglio cercare di capire lei mi deve aiutare a livello politico che cos'è accaduto all'Italia in agosto e settembre io non l'ho ancora capito Credo che nessuno l'abbia capito e quello che l'ho capito di meno sono io nel senso che Salvini aveva sempre rassicurato il proprio elettorato che sarebbe andato avanti per completare alcune operazioni, per esempio quella degli immigrati, la flat tax e altre faccende e invece all'improvviso ha staccato la spina e nessuno ha capito i motivi veri anche se lui dice che sentendosi sempre dire di no dai suoi co-equipie in sostanza si è scocciato però ha combinato un bel guaio perché adesso la situazione secondo me si è ulteriormente complicata quindi lo Stato italiano è povero perché spende più di quanto in cassa ma gli italiani sono ricchi a giudicare anche dai depositi bancari che sono i più alti d'Europa non solo, poi 83 italiani su 100 abitano in casi di proprietà quindi vuol dire che noi non stiamo male continuiamo a piangere anche perché l'economia non va ma sono tutte balle perché l'economia non va da nessuna parte non solamente in Italia e oltretutto noi abbiamo molto nero che non figura ufficialmente nel PIL e quindi i dati sono falsati la realtà è molto migliore di come noi stessi giornalisti la descriviamo quindi i primi due concetti insomma da una parte da un punto di vista più economico dell'economia quotidiana l'italiano è il risparmiatore quindi la responsabilità lei sta dicendo è della politica perché l'italiano invece i soldini li ha messi da parte sempre questo è il punto cioè gli italiani hanno dei depositi bancari importanti sono proprietari della casa evidentemente non vivono male e per risparmiare bisogna guadagnare quindi evidentemente gli italiani in qualche modo guadagnano c'è anche chi guadagna il nero ma è sempre meno guadagnare il nero che non guadagnare per niente e quindi la situazione non è drammatica è drammatica in Germania, in Francia e in Olanda dove l'indebitamento privato è altissimo in sostanza si può dire che il convento sia povero ma i frati sono ricchi invece da un punto di vista politico la frase che mi ha colpito nella sua analisi direttore è stata Salvini ha combinato un bel pasticcio siccome dopo la decisione di Salvini di staccare la spina al governo si è parlato evidentemente per quello che è accaduto successivamente la formazione del governo, Movimento 5 Stelle e PD di una sorta di colpo basso invece che è stato fatto nei confronti di Salvini quindi lei dice che però invece ha sbagliato lui per primo non che ci fosse già un disegno predefinito per mandare via Salvini diciamoci così chiaramente la cosa questo io non l'ho mai pensato perché i fatti diciamo non dimostrano che c'è stato un movimento per cacciare Salvini Salvini si è cacciato da solo a un certo punto è andato da Conte e poi è andato da Di Mario e gli ha detto che non intendeva più andare a continuare salvo pentirsi perché poi a un certo punto in Parlamento in Senato Salvini disse a Di Mario beh però se vuoi fai tu il premier allora andiamo avanti insomma mi è sembrato un pasticcio dopodiché Salvini sicuramente ha dei motivi ma che non ce li ha riferiti se dovessi chiederle cos'è meno poi torniamo sull'attualità politica di oggi un voto intanto del governo che ci siamo lasciati alle spalle quello che Salvini le dice ha fatto cadere quindi il Movimento 5 Stelle e Lega e invece il governo attuale perché poi stanno accadendo anche delle cose a livello locale guardiamo in Umbria guardiamo l'ipotesi futura di Roma insomma che lascia presagire che comunque probabilmente PD e Movimento 5 Stelle quest'unione andrà avanti potrebbe andare avanti davvero perché lì siamo nelle mani del Padre Eterno noi non siamo in grado di fare delle previsioni basate su dati concreti non mi sembra che l'idiglio sia particolarmente alto però indubbiamente pur di non andare a casa perché parliamoci chiaro i grillini se vanno a casa rischiano di restarsi per sempre e quindi preferiscono rimanere evidentemente in Parlamento dove percepiscono anche una discreta non eccezionale indennità e per gente che non ha mai lavorato che non ha attività è chiaro che aver trovato la poltroncina fa comodo lo stesso dicasi per il Partito Democratico che adesso è stato dilaniato diciamo così da Renzi che se n'è andato e si è portato via una bella percentuale anche di potenziali voti quindi secondo me se il governo andrà avanti andrà avanti per scopi alimentari non tanto politici può darsi che ce la facciano proprio perché essendo così attaccati alla loro poltrona prima di rinunciarvi ci pensano non una volta ma cento volte Poi temi caldi più che altro che ci siamo trascinati dal governo precedente abbiamo la cosa più imminente la manovra economica quindi il tema economico in questo periodo sta facendo discutere la proposta di tassazione anche per esempio delle merendine gli italiani si stanno spaventando un po' le chiedo un commento su questo e poi l'altro grande tema che è quello dell'immigrazione con questo accordo che è arrivato dall'Europa un'Europa che improvvisamente sembra essersi svegliata sul fronte immigrazione allora questi due aspetti lei come li ha valutati? Cominciamo dal secondo l'accordo europeo è un bluff assolutamente non ci sarà nessuna ripartizione tant'è che Macron lo ha già detto che lui non riceve i clandestini eccetera quindi resteranno tutti in gobba a noi e ce li dovremmo tenere perché il cambiamento di politica in questo campo è stato disastroso già i numeri dimostrano che sono ricominciati gli sbarchi a tutto spiano e la cosa è allarmante mentre Salvini aveva il pugno di ferro era riuscito a imporre una disciplina che oggi si è già dissolta e questo è rischioso per quanto riguarda le tasse abbiamo fatto giustamente l'esempio delle merendine insomma c'è una dimostrazione plateale di idiozia perché se si pensa di aggiustare i conti dello Stato tassando si commette un errore grave bisogna spendere meno bisogna evitare gli sprechi cioè il bilancio dello Stato è come il bilancio di una famiglia se io guadagno 5.000 euro al mese e ne spendo 6 è chiaro che dopo un anno ho un debito di 12.000 euro dopo 10 anni quel debito è di 120.000 euro e allora devo vendere i tappeti i quadri eccetera e capisce che siamo di fronte non si può spendere più di quanto si incassa e poi teniamo conto che il saldo italiano è attivo è attivo e allora cosa succede che noi spendiamo quello che guadagniamo per pagare gli interessi su un debito che non doveva essere fatto e perché abbiamo questa brutta abitudine di fare il passo più lungo della gamba lo dico banalmente però insomma il concetto è quello io credo di aver capito perché i politici prevalentemente non pensano al bene del paese pensano a come procurarsi i voti per rimanere nel palazzo quella è la loro preoccupazione quindi spendono e spandono per tacitare le richieste di una categoria nella speranza che poi la categoria ricambi col voto e insomma il gioco è questo non c'è una visione futura e anche del presente da parte del governo ma c'è solo il pensiero delle prossime elezioni e quindi con questa premessa appunto la definiamo così il futuro dell'Italia come sarà perché allora il popolo italiano l'abbiamo detto prima un popolo risparmiatore che insomma in qualche modo tira sempre avanti però è chiaro che se a un certo punto non si andranno a sanare tutte quelle cose che in qualche modo stanno penalizzando soprattutto la nostra economia qualcosa succederà per forza direttore per fortuna l'economia in Italia è sempre riuscita a calarsela brillantemente non grazie alla politica ma nonostante la politica quindi noi andremo avanti naturalmente i mercati ormai sono tutti collegati quindi se c'è un paese che va male ne risenti anche tu comunque noi continuiamo a essere il secondo paese d'Europa per attività manufatturiera il che non mi sembra una cosa da sottovalutare quindi io non credo che ci sarà un disastro quando si dice che non c'è lavoro si dice una stupidaggine il lavoro c'è manca la voglia di farlo o la capacità di farlo perché molti giovani siccome non hanno imparato un mestiere è ovvio che se non sai fare un mestiere non trovi un posto di lavoro per esempio si cercano dei giovanotti in grado di smanettare con i computer eccetera e non si trovano si cercano fargliami specializzati e non si trovano si cercano tornitori e non si trovano quindi il lavoro c'è se poi nessuno è capace di farlo è chiaro che andiamo a prenderci gli stranieri qualche domanda flash prima di concludere intanto le chiedo prima a Cittatore Enzi che ha dato vita al suo nuovo partito secondo lei avrà futuro il partito di Renzi Renzi ha dimostrato ancora una volta di essere il più furbo della compagnia ha un talento tattico innegabile è riuscito in un colpo solo a far secco Salvini Conte Di Maio insomma non c'è male evidentemente lui le capacità le ha poi capacità come governante non mi esprimo perché però l'uomo indubbiamente è più intelligente della compagnia Di Maio ministro degli esteri Di Maio è non dico semi-analfabeta ma insomma è uno che ha detto che la Russia è un paese mediterraneo quindi io uno così lo metterei lo manderei in collegio non al governo per imparare poi sui congiuntivi in cespica che è un piacere insomma è difficile dare un giudizio su una persona che ti fa solo ridere quando fa degli errori macroscopici Salvini e il suo consenso come lo vede? Cioè Salvini tra virgolette lo dico così Trancian è finito oppure ha di nuovo la possibilità di essere l'uomo chiave del paese intendo dire anche come consenso dell'elettorato? Finito no perché anche i sondaggi dimostrano che lui ha tenuto benissimo siamo intorno al 34% insomma mi sembra una percentuale che nessun'altra forza politica in Italia è in grado di avere certo che se non si va a votare i consensi di Salvini non servono a niente Ultima cosa Forza Italia Berlusconi avrà ancora un ruolo chiave nel centrodestra il presidente Berlusconi ha ribadito che senza Forza Italia il centrodestra non c'è però insomma in questo momento i sondaggi ci mostrano una Forza Italia molto depotenziata insomma appunto diciamo che Berlusconi e Forza Italia non sono morti ma sono stato preagonico e quindi questo governo no preagonico è una parola che a livello italiano mi piace è difficile dire quanto durerà questo governo insomma in soldoni e per concludere questo non lo può sapere nessuno anche perché nessuno si aspettava per esempio l'uscita di Salvini quindi se il giorno prima mi avessero chiesto se il governo sarebbe durato avrei detto sì e quindi io non mi cioè siccome no non sono uno che legge nel futuro legge nelle sfere di cristallo mi arrendo vediamo un po' io mi auguro che crepi personalmente questo governo perché mi fa orrore però questo è un altro discorso ci rivediamo magari tra un po' direttore così vediamo se in qualche modo le considerazioni saranno state delle previsioni azzeccate molto volentieri anche perché vedere lei insomma mi fa piacere perché è bellissima la ringrazio questo endorsement finale non me lo aspettavo è un piacere grazie al direttore Vittorio Feltri grazie a voi